Con noi Carmen Criscuolo, innanzitutto complimenti per la messa di voti conquistati. Ti ringrazio, è stata sicuramente una bella soddisfazione, grazie per essere la prima campagna elettorale, fortunatamente le persone hanno dimostrato di aver apprezzato il modo in cui ho lavorato, il modo in cui ha lavorato un po' tutta la vecchia amministrazione per averci poi riconfermato tutti quanti. Questi sono tempi particolari perché sono tempi di giunta, in effetti una giunta che deve essere ancora formalizzata e probabilmente ancora si sta lavorando per cercare di mettere tutte le piedine al posto giusto. Sì, effettivamente in questo momento l'amministrazione doveva necessariamente riprendere il suo lavoro. Le elezioni che hanno comunque interessato il territorio in un periodo in cui siamo già in effetti in alta stagione, in cui ci sono tantissimi eventi e non soltanto da organizzare, ha fatto sì che la presenza di tutti i consiglieri eletti, insomma tutte le persone che possano dare un contributo al Paese e stiano lavorando in maniera serena e tranquilla, insomma collaborando a portare avanti le attività. È una giunta che dovrebbe nascere senza grossi strappi perché mi sembra che le varie liste stiano lavorando fianco a fianco col Sindaco. Sì, naturalmente con il Sindaco c'è un colloquio, insomma, ci confrontiamo sicuramente costantemente e anche i risultati elettorali non hanno portato nessun tipo di... sono stati risultati andati abbastanza in continuità. Quindi anche per quelle che sarà poi la composizione della giunta le problematiche non sono assolutamente grandi, bensì si tratta soltanto di comprendere un po' quali ruoli possono essere più idoni per alcuni soggetti piuttosto che per altri. Unico grosso punto interrogativo è il Vice Sindaco. Unico grosso interrogativo. No, anche su quello naturalmente il nostro Sindaco sta facendo le dovute valutazioni, andando naturalmente ad individuare quello che possa essere la persona che meglio di chiunque altro possa essere in qualche modo a lui vicina, insomma, supportarlo nei prossimi cinque anni. Grazie. Grazie.